Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video come sempre su Recensione Apple Giochi. In questo video vediamo quali sono le principali novità di iOS 7, la quale prima beta è stata presentata nel WWDC del 10 giugno 2013 da John Ivey. La prima beta di iOS 7 è stata rilasciata il 10 giugno 2013, ma effettivamente il firmware verrà rilasciato al pubblico con la versione Golden Master con l'inizio dell'autunno del 2013. Ma andiamo subito a parlare delle novità che sono state introdotte con iOS 7. Allora, la grafica è diventata molto più minimalista, con dei colori più vivaci. Inoltre sono stati eliminati gli scheomorfismi, ossia le icone che ricordavano gli oggetti della vita reale. Ma passiamo subito con l'illustrare le novità di iOS 7 rispetto ad iOS 6. Sono state apportate modifiche al multitasking, che ora è anche diventato più intelligente. Infatti le applicazioni che usiamo più spesso vengono messe prima. Siri è stata migliorata con l'implemento di numerose voci, anche maschili. Inoltre ha più funzioni e può interagire meglio con il dispositivo. Con Siri è stata anche implementata la ricerca su Twitter, Wikipedia e Bing. Sono state apportate migliorie al centro notifiche rendendolo più semplice e funzionale. Ma la grande novità è che è stata introdotta il Control Center, ossia una tendina che viene tirata su dal basso verso l'alto, dove si possono regolare delle funzioni come il blocco rotazione, la torcia, airdrop, la luminosità schermo. Da lì si può anche attivare o disattivare il Wi-Fi e il 3G. Una nuova funzione che è stata implementata da iOS 7 è la sensibilità di movimento. Era disponibile da tempo su Sedia, ma adesso sarà disponibile direttamente su iOS 7. Infatti se si inclina il device, le icone e lo sfondo si muovono, di modo da farlo sembrare 3D. Un'altra novità è stata implementata nella fotocamera. Infatti con la fotocamera si ha la possibilità di inserire anche dei filtri, di tipo il bianco e nero, fumetto, eccetera. Nell'app Immagini c'è anche la possibilità di raccogliere e di organizzare tutte le foto per anni. Quindi questo video è finito, vi raccomando di seguire le recensioni Apple Giochi. Se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, commentate e mettete mi piace a questo video. Ciao a tutti!